sta registrando? si evlas nuovo a tutti Samiri e Samire benvenuti in questo nuovo video questo è Samiri's Vlog e bentornati sul canale scusate le condizioni ma oggi sono soltanto qui per ricordarvi dell'incontro di domani alle ore 17.30 su zoom facciamo un incontro tra Samiri e Samire se volete partecipare ci sono vi metto il link in descrizione nell'incontro non si fa nient'altro che cincischiare tutto il tempo che si vuole e spero che questa riunione non termini subito perché ci sono appunto le riunioni in caso metto due link in descrizione adesso vediamo come riesco a metterlo e niente adesso cerco di recuperare il link l'incontro si svolgerà appunto alle 17.30 spero ci siate ci tengo tantissimo parlare con voi davvero mi fa sentire bene e quindi per favore cercate di esserci l'incontro appunto nell'incontro non ci sono non ci sono divieti di cincischiare si può cincischiare come e quando si vuole e nulla che questi incontri abbiano inizio un bacio e fatemi sapere per cortesia se ci siete domani ciao